L'orribile 1884 Maupassant La tiepida notte discendeva lentamente. Le donne erano rimaste nel salotto della villa. I uomini, seduti a cavalcioni sulle sedie del giardino, fumavano dinnanzi alla porta, facendo circolo intorno a una tavolata piena di tazze e di bicchierini. I loro sigari brillavano come occhi nell'ombra che si infoltiva da un minuto all'altro. Era stata narrata proprio allora una terribile disgrazia accaduta il giorno prima. Due uomini e tre donne annegate sotto gli occhi degli invitati lì, di fronte, nel fiume. «Orribile!» esclamò un invitato. Il generale D.G. sentenziò. Sì, queste cose commuovono, ma non sono orribili. «Orribile!» Questa antica parola vuol dire assai più che terribile. Una paurosa disgrazia, come quella narrata, commuove, sconcerta, impaurisce e non atterrisce. Perché si provi orrore più che la commozione dell'anima e più dello spettacolo di un morto? Bisogna provare un fremito di mistero o una sensazione di spavento anormale, innaturale. Un uomo che muore anche nelle condizioni più drammatiche non suscita orrore. Un campo di battaglia non è orribile. La vista del sangue non è orribile. I delitti più vili, di rado, sono orribili. Ecco due esempi personali che mi hanno fatto comprendere che cosa si può intendere per orrore. Fu durante la guerra del 1870. Ci ritiravamo da Pont-au-de-mer dopo aver superato guan. L'esercito di ventimila uomini circa, ventimila uomini in fuga, sbandati, sfiduciati, sfiniti, andava a riorganizzarsi alle havre. La terra era coperta di neve. Cadeva la notte. Dal giorno innanzi non avevamo mangiato più nulla. Fuggivamo celermente perché i prussiani non erano lontani. Tutta la campagna normanna, livida, chiazzata dalle ombre degli alberi che cengevano le case, si distendeva sotto un cielo nero, greve e sinistro. Nella luce opaca del crepuscolo non si odiva altro che un brusio confuso, sordo e tuttavia smisurato, di greggio in cammino, un trapestio infinito, misto a un vago tinnire di gamelle e di sciabole. I uomini curvi, a coppie sporchi, spesso anche stracciati, si trascinavano, arrancavano su da neve con lunghi passi affranti. La pelle delle mani si appiccicava all'acciaio del fucile perché quella notte gelava terribilmente. Spesso vedeva un soldato togliersi le scarpe per andare scalzo. Tanto soffriva coi piedi costretti nelle calzature e ogni orma lasciava una traccia di sangue. Poi, di lì a poco, sedeva in un campo per riposarsi qualche minuto e non accennava a rialzarsi. Ogni uomo seduto era un uomo morto. Ne avevamo lasciati dietro di noi, di quei poveri soldati che contavano ripartire non appena avessero un po' riposato le loro gambe indurite. Invece, appena avevano smesso di muoversi, di far circolare il sangue quasi inerte nella carne raggelata, un torcore invincibile li fermava, li inchiodava a terra, chiudeva loro gli occhi, paralizzava in un momento il meccanismo umano logorato. E si lasciavano andar giù, la fronte sulle ginocchia, senza tuttavia cadere perché le spalle e le membre diventavano immobili, duri come legno, incapaci di rizzarsi o di piegarsi. E noi altri più robusti andavamo sempre avanti, presi dal gelo sino al midollo delle ossa, procedendo come per forza di nerze in quella notte, in quella neve, in quella campagna fredda e mortale, oppressi dal dolore, dalla sconfitta, dalla disperazione, attannagliati più che altro dall'abobinevole sensazione dell'abbandono, della fine della morte, del nulla. Scorsi due gendarmi, che tenevano per le braccia un strano, vecchio, senza barba, l'aspetto veramente sorprendente. Credendo di aver preso una spia cercavano un ufficiale. La parola spia corse senz'altro fra i rimasti in coda e fu fatto cerchio attorno al prigioniero. Una voce gridò «Bisogna fucilarlo!» e tutti quei soldati che cadevano di sfinimento, che stavano in piedi perché si appoggiavano sul fucile, ebbero all'improvviso quel fremito di collera furiosa e bestiale che spinge la folla all'eccidio. Volli parlare? Ero allora comandante di battaglione, ma non si riconoscevano più i capi. Avrebbero fucilato anche me. Uno dei gendarmi mi disse «A tutti chiede informazioni sull'artiglieria». Mi provai a interrogare quell'uomo. «Che cosa fate? Che volete? Perché seguite l'esercito?» Balbettò qualche parola in un gergo inintelleggibile. Era davvero uno strano tipo dalle spalle strette, dall'occhio sornione. Era così turbato dinanzi a me che non dubitai più che si trattasse di una spia. Sembrava molto agitato e debole. Mi considerava di sottecchi, con un'aria umile, stupida o scaltra. I uomini attorno a noi gridavano «Al muro! Al muro!» Dissi al gendarmi «Rispondete del prigioniero!» Non avevo finito parlare che una spinta terribile mi rovesciò e io vidi in un secondo l'uomo afferrato dai soldati furiosi, atterrato, colpito, trascinato sul ciglio della strada e gettato contro un albero. Cadde nella neve già quasi morto e subito venne fucilato. I soldati sparavano su di lui, scaricavano le armi, sparavano di nuovo con un accanimento di belve. Si azzuffavano per poter tirare, sfilavano davanti al cadavere e sparavano su di esso come si sfilza dinanzi a una bara per gettare acqua benedetta. Ma ad un tratto corse un grido «I prussiani! I prussiani!» Udii per tutto l'orizzonte il fragore immenso di tutto l'esercito che correva. Il panico, nato da quelle fucilate su quel vagabondo, aveva atterrito gli esecutori stessi, i quali, senza comprendere che lo spavento proveniva da loro, fuggirono e scomparvero nel buio. Rimasi solo, dinnanzi al corpo esanime, coi due gendarmi, che il dovere aveva trattenuti presso di me. Sollevarono quella carne martoriata, maciullata e sanguinante. «Bisogna perquisirlo», dissi, e porsi una scatola di cerini che avevo in tasca. Una dei soldati faceva l'une all'altro. «Io stavo ritto tra loro due». Il gendarme che esaminava dichiarò «Vestito di un camiciotto turchino, di una camicia bianca, di un paio di calzoni e di un paio di scarpe». Il primo cerino si spense. Fu acceso il secondo. Rivoltando le tasche del giustiziato, il gendarme riprese «Un coltello d'osso, un fazzoletto a quadretti, una tabacchiera, un pezzetto di spago, un pezzo di pane». Il secondo cerino si spense. Fu acceso il terzo. Il gendarme, dopo avere a lungo palpato il cadavere, dichiarò «Nient'altro». Io dissi «Spoglialo, forse troveremo qualcosa contro la pelle». E perché i due soldati potessero darsi da fare insieme, mi misi io stesso a rischiararli. Li vedevo, nella rapida luce del cerino, che presto si estingueva, togliere a uno a uno gli indumenti, mettere a nudo quell'ammasso sanguinante di carne, ancor calda e morta. Ed improvviso, uno di essi esclamò «Per Dio! È una donna!» «Non saprei dirvi che strana e pungente sensazione d'angoscia!» mi sconvolse. Non potevo crederlo. E mi inginocchiai nella neve, dinnanzi a quell'ammasso informe, per vedere. Era una donna. I due gendarmi allibiti e avviliti aspettavano che io emettessi il mio parere. Ma io non sapevo che pensare, che supporre. Allora il brigadiere pronunziò lentamente «Forse è venuta a cercare il suo figliuolo, che era soldato d'artiglieria e del quale non aveva notizie». E l'altro rispose «Potrebbe anche darsi». E io, che avevo pur visto cose terribili assai, mi inizia a piangere. E sentii di fronte a quella morta, in quella gelida notte, in mezzo a quella nera pianura, dinnanzi a quel mistero, dinnanzi a quella sconosciuta assassinata. Quel che vuol dire questa parola? Orrore! Provai questa stessa sensazione lo scorso anno, interrogando uno dei veterani della missione Flatters, un fuciliere algerino. Conoscete i particolari di quel dramma atroce? Ve ne è uno tuttavia che forse ignorate. Il colonnello andava nel Sudan per il deserto e attraversava l'immenso territorio dei Tuareg, che in quell'oceano di sabbia, che va dall'Atlantico all'Egitto e dal Sudan all'Algeria, sono una specie di pirati, paragonabili a quelli che un tempo infestavano i mari. Le guide che conducevano la colonna appartenevano alla tribù dei Ciambà, di Urgola. Un giorno fu eretto il campo in pieno deserto e gli arabi dichiararono che, essendo il pozzo ancora piuttosto lontano, sarebbero andati a cercare l'acqua con tutti i cammelli. Un sol uomo prevenne il colonnello che gli era stato tradito. Flatters non gli credette e accompagnò la carovana con gli ingegneri, i dottori e quasi tutti gli ufficiali. Essi furono trucidati attorno al pozzo e tutti i cammelli catturati. Il capitano dell'ufficio arabo di Urgola, rimasto al campo, prese il comando dei superstiti, spies e fucilieri, e fu iniziata la ritirata, abbandonando i bagagli e i viveri, perché mancavano i cammelli per portarli. Si misero dunque in cammino in quella solitudine senza ombre e senza fine, sotto il sole divorante, che li arroventava dal mattino alla sera. Una tribù venne a fare atto di sottomissione, e furono portati loro dei datteri. Erano avvelenati. Quasi tutti i francesi morirono, e fra essi l'ultimo ufficiale. Non rimaneva più che qualche spies, tra cui il maresciallo d'alloggio Pobegin e alcuni fucilieri indigeni della tribù di Chambah. C'erano ancora due cammelli, una notte essi scomparvero con due arabi. I superstiti allora capirono che fra poco sarebbe stato necessario di volarsi l'un l'altro, e non appena scoperta la fuga dei due uomini con le due bestie, coloro che restavano si separarono, mettendosi a camminare isolati nella sabbia, sotto la fiamma intensa del cielo, oltre la portata dei rispettivi fucili. Andavano così tutto il giorno, e quando fu raggiunto a un pozzo, ognuno vi andava a bere a turno, non appena il più vicino aveva raggiunto la distanza necessaria. Andavano così tutto il giorno sollevando qua e là quelle piccole colonne di polvere che indicano di lontano i camminatori del deserto. Ma una mattina uno dei soldati, ad un tratto, obliquò, avvicinandosi al suo compagno. Tutti si fermarono a guardare. L'uomo verso cui marciava il soldato affamato, l'uomo verso cui marciava il soldato affamato non fuggì, ma si appiattò a terra e prese di mira quello che veniva verso di lui. Quando lo credette a tiro, sparò. L'altro non fu colpito e continuò ad avanzare, e imbracciando a sua volta il fucile, uccise di colpo il suo camerata. Allora, da tutto all'orizzonte, gli altri accorsero per avere la loro parte, e colui che aveva ucciso, fatto a pezzi il morto, lo distribuì. E si sparsero di nuovo quegli alleati irriconciliabili, fino al primo omicidio che li avrebbe riuniti. Per due giorni vissero con quella carne umana ripartita. Poi, tornata la fame, quello che per primo aveva ucciso, uccise di nuovo. E di nuovo, come un macellaio, tagliò a pezzi il cadavere e lo offrì ai compagni conservando soltanto la sua parte. Così continuò quella ritirata di antropofaghi. Ultimo francese, Obegin, fu trucidato in riva a un pozzo, la vigilia del giorno in cui arrivarono i soccorsi. Capite ora ciò che io intendo per orribile. Ecco quanto ci raccontò l'altra sera il generale D. G.